Ciao, benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 5 del Libro Shea, album che è valido fino al 26 aprile del 2017. Troverete tante offerte, tante promozioni, un regalo al beauty case con 30 euro di acquisto in prodotti e entità per il viso, ma lo vedete nell'album, tanti set per la festa della mamma e tante novità beauty, quindi direi di iniziare subito a sfogliarlo. Ma ciao, allora, eccoci qui col nuovo album e iniziamo subito a sfogliarlo. Questo è il sommario, vediamo la prima pagina, eccola qui, dove è indicato subito l'omaggio al beauty case, eccolo qua, che è anche bello grande, in tessuto, sia in omaggio con 30 euro di acquisto dei trattamenti anti-età che ora vi mostro. Comunque tutti i trattamenti e anti-età di viso, eccoli, anti-esu global, che oltretutto la crema a giorno è anche in offerta, tutti i trattamenti, comunque, eccoli, l'XC 79, la Irish Creme, 30 euro per il beauty case, eccola qua, la Vale Lifting, la Serum Digital, le varie linee, sempre la Serum Digital, la Lifting Bio, Zero Default, e anche di questa linea, sempre Serum Digital, il latte detergente o la lezione tonica, sempre 30 euro per avere il beauty, fino a questa pagina. Vi mostro ora una novità, perché abbiamo, aspettate che, eccola qui, tutti i nuovi pennelli e accessori per il viso. Cos'è la novità? Allora, intanto, hanno tutte le setole sintetiche, poi c'è l'imballo, eccolo qua, ed è riutilizzabile, quindi si può mettere il pennello, dopo l'uso, dentro alla confezione. Il pelle, gli abbiamo detto, che è 100% sintetico, il manico è più solido, la sua mano è più migliorato, il... la... come si chiama? Il pezzo di metallo dove sono attaccate le setole è più robusto, e il manico è in legno, proveniente da foresta e gestita responsabilmente. E ora li mostriamo tutti, questi sono quelli viso, che abbiamo il pennello antiocchiaia, il pennello da fondotinta, il pennello da cipria, guardate che bello, il pennello da contouring, il pennello da fard, e il pennello è uniformante per... insomma, quello con le setole doppie, quindi fluido e polvere. Spugnetta, va bene. E poi abbiamo anche i pennelli occhi, quindi il pennello da sfumatura, il pennello smocchi 2 in 1, no, il pennello smocchi 2 in 1 è questo, scusate. Questo è il pennello obliquo, infatti mi sembrava il pennello obliquo, il pennello smocchi 2 in 1, che ha la parte più corta e la parte più morbida. Tite applicatori, accessori labbra e mani, pennello labbra retraibile, e la lima in vetro. vediamo anche la novità, la novità make-up è la cipria, cipria opacizzante, pelle perfetta, sempre dalla linea zero de flow, e non ho mai sbagliato, vediamo questa. Intanto, eccola qui, è una cipria compatta, forse si vede meglio qui, cipria compatta, ed è dove c'è anche lo specchietto, le colorazioni sono tantissime, dal sottotono beige oppure rosa, quindi davvero perfetta per ogni tipo di carnagione, è perfetta, direi, da portarsi anche dietro per i tocchi, è opacizzante, come hanno detto, e direi che dice di prelevare la polvere con il pennello, ma va bene anche per i tocchi fuori casa, quindi davvero, la trovo molto, un'idea molto furba. Vi mostro ora un'altra offerta, eccola qui, è il set mani, che comprende la base SOS rinforzante, più lo smalto gel, lo smalto si può scegliere in tutti questi colori, ovviamente, quindi scegliete quello col codice che preferite, e la crema sublimatrice 2 in 1 per mani e unghie, il tutto a 11,95. Allora, in questo caso, il codice è per questo smalto rosa, però, eccoci qui, allo stesso prezzo, ovviamente, è sempre compreso nel pacchetto il smalto rinforzante, il colore che volete con il codice, e poi la crema mani. Siamo arrivati alle promozioni per la festa della mamma, intanto vediamo l'edizione limitata di questo profumo, che è Common Evidence, eccola qua, 26,95, il Vap da 50 ml, ed è bella la confezione, il profumo è lo stesso, ma la confezione è un'edizione limitata, molto bella da regalare. Abbiamo anche il set, eccolo qui, che comprende il gel doccia da 200 ml, il profumo da 50 ml, e la salvietta ospite, più il cofanetto per contenerla, il tutto a 34,95. Ovviamente, allo stesso prezzo, c'è anche l'edizione classica del profumo, oppure, eccolo qui, ed è Carac Notte d'Amour, sempre il gel doccia, il profumo, salvietta, più la confezione, Solixir, Solixir, e Bois en Seine, Solixir Purple, Accord, Accord Chic, Per finire, ecco, e prima vi mostro questa, quindi, è il Manoi, che è simple set, in questo caso, il 19,95, e comprende, le de toilette, eccolo qua, e lo shampoo doccia, e la salvietta ospite, più il cofanetto, 19,95, ora vi mostro la novità, ecco, nell'altra pagina, perché ci sono due nuove profumazioni, la Plasier Nature, per il bagno doccia, Pompei, il Moetimo, che trovo molto, primaveri e estivo, ovviamente, il bagno doccia, da 400 ml, 3,95, 2,70, quella da 200 ml, questo prezzo, e la nuova profumazione, mandarino, legno di cedro, un'altra che, mi interessa molto, perché credo che siano davvero, molto estive, e questo era tutto l'album, allora eccoci, abbiamo sfogliato tutto il catalogo, come sempre vi ricordo, che qui sotto, nell'info box, c'è il link, per scaricare il catalogo, in formato PDF, poi tranquillamente, ci sono tutti i contatti, per potermi contattare, per gli ordini, per le informazioni, ed è, non mi resta che augurarvi, buoni acquisti, naturalmente profumati, con il magico, naturale mondo, di Rocher. Grazie.